La prima andata the first is done the first thing 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 is done Grazie a tutti. Allora qui il bagno è completato. Il bagno è completato. Il bagno è completato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Ok. Allora una cucchetta da mettere qui. Ok. 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 Cento per cento, 100% Nice job Ottimo lavoro Ok Mission number two Missione numero due Andiamo avanti Con il prossimo bunker Next bunker Or bunker Ok Next This one is more one of the most harder part of this mission of bunkers Controlliamo sempre il giardino prima di entrare Let's check always the garden before entering You will unlock gardening ability Ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh la la. Che mercello. with a mess. Remove rubbish. E qui ce n'è parecchio. E qui c'è un lot of rubbish. Ou comme on dit, Neapolitan mounaids. Réalise. step la main en place! Prinya, eh? 楊大 questa è veramente una delle missioni più incredibili con un alto tasso di muniz questo è un livello molto difficile for the quantity of rubbish or as I see in Neapolitan munnets iscriviti al nostro canale 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 so 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 not to 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 rework on it not to replace lamp or or other things other things interrupt tool should we so let me see so let me see so cell object okay the ancient chairs is it says it says this is rubbish so we have to clean it and to take a clear area for working for a better working to this is so hot the weather is sorry the weather in naples here in my here in my town in my city so now we are to let me see white okay I 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 Always white I 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 Aspetto il bagno Nonostante non fosse necessaria Quella distesa di di vernice bianca vero già così è molto molto diversa quindi vedo che quando ho 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 pia pia e ho fatto questo lavoro è molto diverso questo è molto ho 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 Job done, lavoro completato, ok Acabala l plein lareads, cioè il teatro di sèdere, eccetera, 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 eccetera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E adesso cominciamo a fare le provviste. E adesso dobbiamo comprare le comune. Per un tempo più lungo. Per un tempo più lungo nel bunker. Appunto per un'eventuale lunga permanenza nel bunker. Per un'eventuale lungo. Ok. Ok. Food. Food box. Ok. Now pastasciutta. Pastasciutta. Macca. Macaroni. Maccaroon. Sembra un po' più macarena. Riso. Rice. Sunrise. 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 Buon appetito! Grazie a tutti. 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 vorrebbe essere perfetti per questo. Questa c'è tanto lavoro, ma forse troverai qualcosa che ti aiuterai ad affrontarlo rapidamente. Oh, ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Oh, ok, ok, ok. What, ok, ok. What, ok, 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 ok. Professional hammer this is it so after this mission I remember E' bella dura questa missione. This mission is quite hard. There is a lot of things to do here. There is a our guests is wanting to build a kind of paintball zone, kind of this. And there is it to organize and do our best forest. There is business, you want to make a lot of money. And the issue is that we are one of the best team on this kind of work. E' dicevo che il client chiedeva di sistemare quest'area per attrezzarla diciamo a modo caserma. E' ovviamente ha chiesto l'aiuto a noi per poter sistemare questa poca di cose qua. Questa è un moncio professionale. This is a professional brush. Bl sog. Bl sog. Bl sog. Bl sog. Bl sog... Bl sog. I never want it, let's go on. This is a quite long mission with our wallet. You? I do. I never want it. 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 un bel borde un verde dovrebbe essere questo soffa questo dovrebbe essere un ban it should be a visual ban scrivania in legno Una qui e la da qua, poi due tv a sospensione, allora uno lo mettiamo Ah, ok, so we have to find electrical panel, fuse, we must find the fuse Dobbiamo trovare i fusibili perché a quanto pare quando ho provato ad accendere il televisore o i televisori e la luce, diceva di controllare i fusibili Now we should try to look at fuse, because when I try to switch off the television and the light, the menu of the games is that I have to to check the fuse So we will take a look, I'll try to find and then patch them Cercheremo di trovare questa benedetta scatola dei fusibili per poter poi ripristinare il tutto Allora qui porta ancora sporco Poi Ok Oh ok Pum, papapam Pum, papapam Pum, papapam dove sono? dove sono? dovremmo Questa missione è abbastanza lunga, mi richiede anche un po' di pazienza in più. Questa missione è abbastanza lunga e abbastanza dura, quindi bisogna essere molto paciente prima di venire la stop e questa missione è finita. Questa missione è abbastanza lunga e abbastanza lunga. Grazie a tutti. Purtroppo non posso dare l'herba, I can't cut the grass. So, let's go up a side. Oh yeah. should be a visual bug oh outside here is not very clean it's quite dirty and now every time of my life I say it's a true world I love you I love you It's fantastic but it's amazing Mamma rogarma Ouch questo è abbastanza dimenticato should be outside an old person the other day may have no longer canada anah will be in the妈 Hero so if you do not want to 사람이 to form one time vase Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. So, I guess say, to save the barra. Storage. Give a kind of storage. I'll try to do my best. I see. It's quite hard. It should be... The end part. The ending part. So, this one. So, this one. We have come with him now. We have come. I see. I see. I see. We have come with him. I see. So, I see. We have come with him. Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Devo trovare la scatola con il fusivo I have to find the fuse box Oh, here there is Erkalokwa Lie There is no light It's here I have to find the fuse box 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 Not bad, non male. Non male, 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 non male. Non male. Non male. I didn't read with attention the script. Psh. Sì 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 Ragazzi mi raccomando eh Diamo una mano anche all'amico talebano a far crescere il suo canale. Un bel follo e cerchiamo di seguire anche le sue live. Sai talebani io penso che credo che questa sia secondo me la cosa giusta da fare. Sì Inutile Come dire Deve farsi La guerra tra virgolette Tra streamer ci dobbiamo dare una mano quindi Se non lo facciamo noi che siamo rispetto a tanti altri che siamo Formichine ma diciamo così Insomma staremo un pochettino non molto bene. Bene Azzurro Azzurro Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me Mi accorgo di non avere più risorse senza di te E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te Ma il treno dei desideri Dei miei pensieri all'incontrario Ma questo però mi sa che sto tavolino qua Devo cambiare Eccoci qua Devi sapere talebana che ogni tanto da buon napoletano devo cantare qualcosina Anche perché poi non essendo Bravissimo Allora cerco di Di non far annoiare Coloro che stanno in live Con il soft gaming Ma Si Guarda Ma al di là del fatto che stai tu in live In questa live qua Io l'ho sempre detto Ehm Che non bisogna farsi Ehm Una Diciamo concorrenza non corretta Ma per non usare un termine diciamo Ehm Ehm Un po' più Per non farsi le scarpe Per cui anche per esempio Ora io Spesso Ehm Frequento Anche i canali Per esempio Di Nick Di Mitigaccio Ehm Di Robymel E di Nora Non so se tu li conosci Ci sono comunque altri streamer Che anche loro portano Il gioco di Farming E per esempio io Se trovo una mod Interessante La consiglio pure a loro Senza alcun tipo di problemi Ma A prescindere Che poi non è che voglio Un Ehm Come dire Ehm Ehm Ma non mi viene il termine Boh comunque Insomma Non mi piace Fare 3000 Cosa in esclusivo Che poi uno deve dire Eh L'ho detto io Non l'ho detto io Ehm Molto spesso In chat Nelle chat Quando magari vedo Che non l'hanno ancora provata Glielo dico Guarda Ehm E poi loro Insomma Quando possono Mi rispondono Sì L'ho provata Oppure non ho avuto tempo Ehm Insomma Approfitto pure Per Fare un po' di pubblicità Pure A questi altri streamer Quattro streamer Che sono Miticaccio Nick Nora E Roby Men Insieme all'amico Talebano77 Su Need Follow Allora Nick Stream Dalle 16 Alle 18 Poi Se vedi che Quando fa più caldo Lo stream Non fa lo stream La sera Cioè Il pomeriggio Fa lo stream Durante la sera Quindi Posticipa Lo stream Dopo cena Per farti capire Mi ricaccio Mi ricaccio Insomma Sono un po' Un'abituese Se vogliamo Dirla così Del Dei loro stream E Quindi E' per questo Che Insomma Più o meno Conosco In base Pure I loro Le loro Live Ti ripeto In qualche occasione Ho avuto il piacere Di consigliarlo Ma Finisce lì Non è che Uno Vuole la gloria Assolutamente Non esiste Prove Oh Finalmente Ale Un'impresa 100% Anche io talebano Ti dirò di più Io prendo anche spunto Però lo dico che Se non è farina del mio sacco Io lo dico Perché non mi va Di arrogarmi Una Qualcosa Che non fa parte Delle mie Conoscenze Per cui Se io una mod La vedo Sul canale Di Nick Piuttosto che Di Nora Miticaccio Di Robymel Io lo dico chiaramente Non è che Cioè A me non mi cambia niente Alla fine Capisci Anche se Io Rispetto a loro Faccio Faccio Poche visualizzazioni Live Faccio Poche visualizzazioni Complessive Del video Però a me Insomma Piace Come dire Intrecciare Buoni rapporti Buono Talebano Grazie per essere passato in live Grazie a tutti Grazie a tutti Per seguire Il live Streaming Come You will find You will find On YouTube House Flipper The video On Saturday Io come sempre vi ringrazio E vi ricordo che Tutti i giovedì Sarò Sarò in diretta con House Flipper Su Twitch Mentre invece Sarà disponibile il video Sul canale YouTube D'App Logistica Il sabato Detto questo Io Vi ringrazio Di vero cuore E Thank you For 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 the following Thank you everyone And Stato Buona Bye bye Thank you Bye 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 bye